Oggi è 24 gennaio, San Francesco di Sales, protettore della categoria dei giornalisti e allora siamo onorati di avere nel nostro studio del telegiornale il suo tour per le sedi informative della provincia di Teramo Sua Eccellenza il prefetto di Teramo, Fabrizio Stelo, buon pomeriggio Buon pomeriggio a tutti i telespettatori Peraltro da un trentennio e un mese iscritto all'ordine dei giornalisti Elenco dei pubblicisti della Toscana, è un tesserino di cui ancora oggi sono molto orgoglioso Posso chiederle nel 2024 che cosa vuol dire fare informazione? Bella domanda, allora intanto la libertà di stampa è uno dei tanti bellissimi diritti che la nostra Costituzione sancisce ormai da qualche decennio Libertà di stampa vuol dire pluralismo, circolazione delle idee e la garanzia che tutte le idee abbiano un proprio spazio per quanto possibile Ovviamente sono bei principi, sappiamo che il mondo degli organi di informazione e anche la categoria dei giornalisti ha qualche problema Qualche giornalista non è proprio bravissimo ma i più bravi e i meno bravi esistono in tutte le categorie quindi viva tutti gli organi di informazione viva la libertà di stampa e viva i giornalisti Qual è il rapporto tra le prefetture, che poi sono baluardi dello Stato, sul territorio e gli operatori della comunicazione? Allora, io ci tengo molto e anche i miei uffici stiamo facendo di tutto per comunicare il più possibile, nel miglior modo possibile, quello che facciamo ovviamente non per farci dire quanto siete bravi o per far vedere quanto siamo bravi no, non spetta a noi il giudizio, il giudizio della prefettura come di tutte le istituzioni spetta all'opinione pubblica, spetta a voi giornalisti, spetta ai cittadini però è giusto che si veicoli l'informazione delle cose che facciamo insomma, come dire, ci sono persone con i propri limiti, i propri errori che però lavorano e che provano a risolvere i problemi, in questo caso di questa provincia, meravigliosa provincia Posso chiederle se, visto chi ne è a capo, la prefettura di Teramo ha una particolare sensibilità per il mondo dell'informazione Sì, sì, sì La sua presenza nella testimonianza per vedere Parte quello, ma poi insomma, diciamo, il numero dei comunicati e anche la qualità ovviamente tutto è migliorabile, diciamo, possiamo essere soddisfatti Io sono qua da circa dieci mesi e ovviamente stiamo cercando sempre di migliorare anche nel concedere interviste, insomma Ebbene, seppur con il mezzo, diciamo, del giornalista che poi arrivi alla cittadinanza che insomma, le istituzioni ci sono, con i loro limiti, con i loro difetti ma ci sono e lavorano, si trovano Posso chiederle che tessuto informativo ha trovato da dieci mesi a questa parte? Beh, ovviamente variegato, carta stampata, radio, televisioni, blog, siti c'è un po' di tutto, d'altronde le potenzialità tecnologiche hanno cambiato ovviamente hanno rivoluzionato il mondo dell'informazione prima c'era la carta stampata che dominava poi è arrivata la radio, poi sono arrivate le televisioni adesso, come sappiamo tutti, la carta stampata è un po' in crisi e c'è questa... il digitale, insomma, comunque, internet, eccetera i social che hanno molto rivoluzionato la qualità diciamo l'offerta formativa a volte anche la qualità, perché a volte nella fretta nella troppa fretta dei social forse a volte manca quell'approfondimento che magari un giornalista può e dovrebbe fare, insomma ecco, è un consiglio ovviamente, un piccolo suggerimento mi fa un assist perché le stavo per chiedere se dovesse dare un consiglio per una corretta informazione a chi ci ascolta allora, divulgare, diciamo così, pubblicare i fatti certamente, ma ovviamente anche commentando certamente anche le istituzioni sono criticabili assolutamente, con critiche costruttive e ovviamente possibilmente separando i fatti dalle opinioni capisco che è una frase facile a dirsi e complicata da farsi ma è giusto che sia così in modo che chi legge o chi guarda capisca, ok, è successo questo il giornalista non è d'accordo e sta criticando chi ha prodotto quella notizia e così anche ogni singolo cittadino può farsi una libera, legittima opinione in un senso o in un altro Prima lei ha parlato dei social allora le chiedo molto spesso sentiamo casi di persone vittime di persecuzioni anche attraverso i social di derisioni che portano poi anche a delle conseguenze estreme che cosa si sente di consigliare a chi dovesse trovarsi all'interno di situazioni del genere? allora questo è un problema che ovviamente non riguarda solo la provincia di Termo ma è un problema italiano anzi, oserei dire mondiale perché ormai i social sono mondiali io sto andando personalmente in tante scuole per mettere in guardia i ragazzi stiamo anche organizzando iniziative per le persone anziane che quindi sono meno avvezze alle diavolerie tecnologiche di oggi l'errore che può fare la persona che si ritiene bullizzata cyberbullizzata stalkerizzata è di non tenerlo per sé quindi parlarne con i genitori se è un ragazzo parlarne con i professori se va a scuola parlarne in famiglia e denunciare ovviamente denunciare c'è la polizia postale con cui abbiamo un rapporto molto frequente sono fenomeni che devono essere devono emergere se no è difficile poi intervenire quindi denunciare perché in molti casi è reato anche quando è una ragazzata il nostro codice penale insomma le riforme di questi ultimi anni ormai non consentono di intervenire anche in maniera pesante quando è necessario quando è opportuno dobbiamo far tutti di più e meglio per prevenire in modo che dai primi segnali di allarme cercare di intervenire subito in modo che non si arrivi a conseguenze se ci sono dei ragazzi sono anche suicidati insomma ecco che non hanno visto più una via d'uscita dalla loro situazione era una questione drammatica insomma possiamo migliorare posso chiederle l'ultima come vede da qui a un decennio un ventennio il mondo dell'informazione eh che bella domanda ovviamente la palla di vetro non ce l'ha nessuno ma si è sempre adattata appunto in questo caso alle innovazioni tecnologiche che hanno veramente rivoluzionato ehm la nostra vita a cominciare dai computer trent'anni fa non c'erano i computer o c'erano i primi MS-DOS queste diavolerie che all'epoca ci sembravano ovviamente rivoluzionare fantastiche oggi ci ridiamo su perché sono archeologia industriale insomma quindi ovviamente la categoria diciamo così dei giornalisti non morirà mai e non potrà mai morire certamente col fatto del pluralismo eh notevole diciamo che anche nei social anche il fatto che si dica che su internet uno vale uno il post mio equivale a quello di Obama o del Papa o di Osama Bin Laden da un lato è una grande democrazia se c'è senza dubbio dall'altro lato c'è il rischio appunto delle tante fake della non approfondimento e non la garanzia della qualità dell'informazione che delle testate giornalistiche eh ordinari irregolari l'iscrizione all'albo consentono o dovrebbero consentire l'iscrizione all'albo